NAMAAAASEEE Wow wow wow, grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul mio canale ragazzi Allora stiamo qui in ricerca delle prove di Dandelion che ha lasciato nel luogo dell'intrusione Dobbiamo prendere secondo me quell'intruglio che ci ha dato il tizio Adesso andremo immediatamente a prendere, ovviamente non me ne ricordo il nome però va bene così Ok Ok quindi siamo immuni per 6 minuti e qualcosa Quindi diamoci una sbrigata Incontreremo sicuramente qualcuno qui Intanto una bottiglia d'acqua gratis, seguiamo le orme qui del... Oh, nemici, sapevo Dai, brighiamoci Oh, oh, ma ti cazzo mi stanno arrivando No, no, piano, piano Boni Dai Ok, ciao vecchio Mamma mia stavo per crepare Ah, mi sto avvicinando ma altri mostri all'orizzonte Mamma mia, questo l'ho... Un po' nato male ragazzi Bene, bene Sembra chiuso qui E invece no, aperto, fantastico No, però devo trovare degli indizi qui prima di andare via, ok Scusate, ma non vedo io qualcosa Ah, eccoci qui, esamina Il fondo di un contenitore Ah, deriva dall'esplosione, ok Olio di biverna e caramello Che cazzo Ah, ok Quindi torniamo ai bagni pubblici Riassumiamo la situazione a quello col nome impossibile di Altizio Vediamo se ci ha di sì qualcosa Lui non sa, ma noi sappiamo che è stato Dan Dalio a fare questa cosa qui Non credo sia il caso di dirglielo Visto che lo cerchiamo vivo Però, vediamo che succede Eccoci qua, arrivati nel suo studio Parliamoli ragazzi Vediamo cosa ha da dirci Eh, voglio raccontarti che ho finito di indagare Dai, raccontiamogli un po' di cose Ah, sugar Era caramello, non sugar No, no, neanch'io Quello che ho osservato Ah, stiamo parlando di culo a Dan Dalio, vedete Ah, stiamo parlando di culo a Dan Dalio Dabbled in it a bit While at Oxenford Academy Allora, stiamo parlando di culo a Dan Dalio Quanto una lama delle mutande, vabbè, siete disiti. Ok, allora dobbiamo trovare quale piscina è collegata alle fogne, praticamente. Vabbè, questo mi sembra qualcosa di interessante. C'è ancora qualcosa qui dietro, vediamo cos'è. Ah, il coperchio del coso che abbiamo trovato prima. Perfetto, quindi il cerchio si restringe, ragazzi. Ok, vediamo cosa c'è sul fondo di questa cosa. Chi è questo? Ah, quello che ci ha aperto. Speriamo di non trovare niente che... Ah, hanno infilato la bomba qui. Speriamo di non trovare niente che incastri il dendaglio. Abbiamo dei nomi. Enkel, chi sarebbe? Ah, un uomo morto faceva il bagno ieri. Bene. Un sosia, eh, madonna, che roba incredibile. Non danno gli ordini, però. Ecco, grazie, chiedimelo gentilmente. Oh, bene, abbiamo messo in riga questo. Bene, raggiungi la casa del Margavio. Margavio? Che cazzo vuol dire? Vabbè, Enkel. Ok, andiamo da questo Enkel che sembra morto, ma un sosia si è palesato nelle docce qui del sauna. E vabbè, stiamo andando un po' da un punto a un altro senza scoprire niente di Dandelion, perché abbiamo parlato con mezzo mondo, però di Dandelion non si sa niente. Quindi andiamo sul posto e ci rivediamo là. Eccoci ragazzi, siamo sul posto. Parliamo con questo qui che sembra essere... No, sbagliavo. Scusate. Dobbiamo entrare qui. Come si entra? Entriamo così? Akab? Oh, ma scusatemi, eh. Ah, beh, prima l'ho fatto sette volte perché non ha funzionato. Che cazzo. Impronte? Bene. Dove ci porteranno mai? Mmm, su per le scale. Una bottiglia di vino, l'abbiamo presa. E una lettera che prenderemo anche quella. Esattamente. Ah, un indovinello. Che bello. Ah, qui c'è qualcosa. Metti la bottiglia nello scomparto per l'annata 2251. Mettiamola. Evidentemente serve a qualcosa. Ah, ok, perfetto. Abbiamo aperto la stanza mettendo una bottiglia. E difatti si è aperto. Voglio proprio vedere che c'è qui dentro. Ah, dove Dandale ha organizzato il colpo. Ok. C'è un ramo, due rami d'alberi che entrano attraverso i muri, ma dettagli. Esaminiamo questo. Hanno fatto qui la bomba, la caccia selvaggia. Esaminiamo questo. Calkestane, ok. Quindi abbiamo un altro nome che si potrebbe inseguire. Qui c'è qualcosa di rovesciato. Olio di viverna, che è uno degli ingredienti per fare la bomba. Poi, un altro foglio da esaminare. Uh, un messaggio per Siri. Merda. Di sotto? Che sta succedendo di sotto? Ma Siri, quindi sta cercando Dandaleon che è stato preso da qualcuno. Ok, qua, ragazzi, sta succedendo un po' di tutto. Ehi, Triss. Non ho aspettato di vedere tu qui. Certamente non con Triss. Ho deciso di usare qualcuno che conosce un po' di magica. Le rune sulle bomba. Mi sono assolutamente stupendo di sapere, cosa significa. Hai stupendo di sapere, Triss? No, solo qui per la coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist I love it In truth, her ideals brought Triss here She needs gold to save her colleagues When I recover my treasure I'll be in a position to help her Simple as that Speaking of which And pardon my post-lare-wares Have you found out who fucking nicked my gold? Allora Tutti gli indizi portano a Mange Però lui che ci fa qui? Non lo so, però vabbè Mi pare che ci aveva amato lui, non mi ricordo Comandante delle guardie del tempo? Ah Oddio, non saprei veramente che dire qui Cioè non è vera nessuna delle due Non ha importanza io direi Doesn't matter Doesn't matter Yet you agreed to help me I am Doesn't mean I have to confess everything I'll let your insolence fly this time But only because his honor the Margrave might indeed have something to do with the theft Hmm Mange has been spending heaps of coin lately Though to my knowledge he shouldn't have a copper to his name So, cosa ora? From what I've heard Mange spends his night at the dock Which hunter's quarters Maybe pay him a visit Ask where he's holding my gold for me Sinceramente dubito che Mange parlerà di sua spontanea volontà di questa cosa Visto che ha rubato tutto l'oro Poi non ho capito se l'ha rubato veramente o no Perché qua non si capisce un cazzo Però vabbè Beh direi che ci sta usando eh Così per dire una Lasciamo stare le cose tra me e Triss Piccioncini da che? Mamma mia sto qua E invece non l'ho corretto Non si sa mai Non c'è bisogno che Beh però neanche tu hai detto nulla in realtà Quindi diciamo questo No non è una cosa facile da dire Benone ragazzi Benone Grandi scoperte Quindi sappiamo chi ha rubato l'oro Ma noi come ha detto il Bongera Ce ne frega il giusto Perché stiamo cercando Siri noi No altre troiate Quindi ragazzi Dobbiamo trovarci a mezzanotte con Triss Perché dobbiamo andare da questa Mange Che ha catturato Dandelion Con l'oro del tipo Con l'home impossibile E Dandelion sa dove è Siri a quanto pare Quindi Andiamo ragazzi Andiamo a fare quest'ultimo pezzo di missione E poi vediamo se abbiamo scoperto qualcosa Eccoci qui ragazzi Siamo nella piazza Devo Meditare fino a mezzanotte Quindi Prepariamoci E poi parliamo con Triss Eccoci qua ragazzi È mezzanotte Ecco la Triss L'edificio non ha un bel aspetto Ah Ah Questo Mange è un uomo protetto Perché guardia per tutto Quanto dice Triss Figo No questa risposta è troppo da tamarro Io Cioè ho capito Dobbiamo far finta che Si è Incarcerata Tipo che l'abbiamo presa Esatto Mi scorderanno finalmente in persona Senza far minimamente fatica Eh Brava Triss Gasami D'accordo E poi Ok Ok non è un piano molto studiato Però ok Andiamo Ci sta Bordello Ok Novigrad Porto Vediamo un po' che succede Siamo dentro Quella fortezza O non siamo ancora entrati Ah Ok Dobbiamo entrare Ah coglione Adesso vi spacchiamo il culo Paggiamo il culo Paggiamo il culo Paggiamo il culo Stai attento A come parli Ciccio Direi giù le mani Cosa No 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 Oh Perché diventate una rissa No Ho sbagliato di rispondere Ok Fuori uno Perché diventate una rissa Però non doveva diventare una rissa Una cosa dovevo fare Cazzo Adesso diventa una missione Quei contro Cazzo Di questa Uh via la testa Headshot bitch Oh aia Questo è schifo Fermo lì E via così Via un altro E via così Uh uh Battono le braccia qua Signori Adesso manchi tu Minchione Vieni qua Bam Andate a morire Uno Ok E vuoi morire Madonna Non finiscono più Ah Allora ti finisco Così Ok Quanti ce ne mancano ancora Finiti Ok Ah Non doveva andare così Ragazzi Lo so Ti chiedo scusa Non doveva proprio andare così Signori il re dello stealth Comunque ragazzi Eh ci sono eh Re dello stealth Potete chiamarmi così la prossima volta Ho distrutto un piano perfetto Vabbè Sì non sono proprio le più forti Hai ragione Ok Ok Ho frugato nella stanza Dai Speriamo di trovare Dandalion Dandalion Come cazzo si chiama Lettera Club Mange Secolo Libro Di Mange Qui dietro C'è qualcosa Ah Serve una chiave Merda Questo sembra un posto Di torture Cazzo Speriamo non abbia torturato Dandalion Non si va su di qua No Ah Devo leggere Scusate Devo leggere La cosa Sulla scrivania Di Mange Che ho preso su Un attimo Fa Che è questa qui Esatto Leggiamola E scopriamo che Parte un video Bene Vediamo Un po' Ah perfetto La chiave che cercavo prima Ok La chiave Però lui Magari cercava i soldi Proprio non solo la chiave Ho trovato una lettera Di una spia Oh Un'altra persona Da inseguire Che cazzo Ok Dobbiamo dire anche L'altra risposta Quindi dubito Che basterà una chiave Eh infatti Perché La cassaforte dov'è Dai andiamoci Non c'è più niente Da fare qui Ok Non dobbiamo uscire Da cancello principale Quindi Troviamo modo Di uscire furtivamente Beh direi che La chiave che ci ha fornito Triss è molto utile Perfetto Guarda a casa Un'uscita secondaria Bruciamo questa topaia Perché Troppe tracce Va bene Sì Ma io anche Ne ho bisogno Di bruciare Un'altra stima Scusate C'è un'altra cosa Che volevo parlare Però Non qui E sicuramente Non qui Ah ok C'è qualcosa di cui Vuole parlarmi Vabbè Sarà una missione secondaria Che farò per conto mio Casomai Ok Dobbiamo uscire Ok Sono uscito LOL Alla Assassin's Creed Cioè Ho fatto proprio Uno stealth Alla Assassin's Creed E poi anche Un'uscita Alla Assassin's Creed Fantastico Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Abbiamo scoperto tantissime cose Ammazzato tantissimi nemici Oggi quindi Un episodio Bello Po 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 Così Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E ci rivediamo Nel prossimo episodio Del let's play Bella Al prossimo episodio è tutto Abbiamo scoperto tantissime cose